Per l'arrivare mi è caduto, sì, di nuovo mi è caduto, ma penso che come ho detto la squadra era più forte, abbiamo fatto uno secondo, anche terzo, e abbiamo fatto un lavoro personale. Mi ricordo che mi avevano presentato te quando eri ancora più piccolo e dicevano il nuovo Gaviria, come stai diventando invece secondo te che il corridore puoi diventare? No, come sempre ho detto, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace essere migliore ogni giorno, per questo mi inseguro e voglio fare lo miglioro in ogni carrera. Qual è il sogno per la tua carrera? Il sogno mio è venire in Campos Elicio e per questo lavoro. E stai seguendo i tuoi amici? Sì, buono, credo che oggi è stato un bel giorno, perché non era come il pavere, ma era qualcosa di simile a questo tempo. E stare con corredori come Gilbert che ha giocato il Rubè, la maggior parte delle classiche, è qualcosa che ti ha motivato molto. Il Tour de Francia sta seguendo la Filippe e gli altri? Sì, sì, credo che, come ti ho detto, sono felice di essere in questa squadra, la miglior del mondo per me. Qual è il segreto del Wolf Park? Come dice il nome, Wolf Park è una manata di lobo, sempre siamo uniti e credo che ci sia quello che ci rende la victoria. Grazie mille.